Stai registrati? Ah, ok. Ma è un ingordo. Mi piace. Sarebbe bellino, visto su quello, c'è anche la possibilità di metterci. Bisognerebbe vedere, a parte che oramai non ha più senso. Stai lì, fermo, bravo, così. Girati, rigirati. Poi si fa il fermo immagine e andiamo a vedere chi ha mangiato di più contando le cellule di niente. No, ma non è, può andare. Eccomi.